Signori ciao a tutti, domani sera per chi sta guardando il video adesso che lo sto caricando che è la sera di 20 novembre, quindi domani sera Bologna e Torino reaction in live al ToroCast mi raccomando, mi raccomando con Giovanni Vogliazzi, ritorno di Engine Granata, ospiti di sorpresa di novità anche del Bologna e un collegamento in diretta dal Dallara di un esponente della cricca Depaz chi potrebbe essere Andrea Vitale, Emily, Depaz, Terranova, uno di questi quattro incredibile in collegamento dal Dallara, dal Dallara Bologna e Torino, allora io ammetto questo, mi sono appassionato che gli altri argomenti di cui mi ho trattato nel ToroCast, sessione live, in queste settimane in cui non ho giocato il Toro e lo ammetto sincero come sono sempre, non mi è mancato il Toro perché il Toro porta con sé le solite questioni, le solite banali questioni e vabbè, arriviamo dai due successi di controllo Sassuolo e dalla perita del Monza che si è parlato conseguentemente allo strascico dei problemi legati all'arbitraggio Zapata che la dà in mezzo, lo devi gestire, ma c'è la falla che ha fatto Zapata in realtà non sembra, però il caldirò, il movimento, non si capisce bene e poi l'Azzaro, la Rigor, tutto quanto eccetera eccetera allora, mi ha fatto notare Engine Granata nel nostro gruppo WhatsApp ToroCast che effettivamente, si può vedere anche dalla internet, dalla Google che con la vittoria della Sernitana il Toro vincendo domani a Bologna tra l'altro Bologna che non perde in casa da non so quanto mi sembra addirittura ad agosto credo il Toro vincendo a Bologna farebbe un grande passo in avanti ora, per tornare alle solite banalità questi pre-partiti non mi mancavano tanto, dico la verità comunque, beh, per tornare alle solite banalità che però rappresentano la verità quando il Toro deve fare un passo importante lo fa? lo fa? chiedo a voi, chiedo a te, lo fa? no, secondo me no, secondo me non è stato parlato di fatti quindi, pronostico per domani Bologna e Torino secondo me, il Toro non vince, secondo me il Toro perde secondo me il Toro perde io pronostico un 6 a 1, secondo me Bologna 6 e Torino 1 allora, il Toro arriva a Bologna con uno Juric che sostiene che Radonich deve adattarsi adesso a questo nuovo modulo con la scusa, con la scusante del nuovo modulo Juric viene a dire che Radonich deve adattarsi no, perché tu Juric non lo vuoi far giocare le motivazioni tue che sono vere sono reali, ma ripeto per la prossima volta è una cazzata che va contro la società che va contro i tifosi, quello di punire quando in realtà è una punizione, Radonich perché la partita non rappresenta un premio per un giocatore di Serie A ma rappresenta lavoro, quindi tre schiaffi metaforici non nella vecchia maniera dei fermoni di Facebook, ma la nuova maniera i metaforici, cioè nel senso dialogicamente, tipo, vaffanculo vai in campo, fai il massimo, non ho precoglioni se ti inizio alla fine, e non ti rimettere più di fare queste cose con me, non mi lanciare bottiglio cose punizione della società che ricordo lo stipendio di qualche centinaia di migliaia di euro che per noi sono come qualche euro che decina di euro, qualche centinaia di euro e via e invece no, Radonich non gioca Radonich non parte dall'inizio si toglie la continuità a questa ragazza a questo ne mangia che ne mangia di reazioni rispetto alle cazzate che lui stesso fa però potrebbe anche non farla lui certo, comunque un Radonich a cui non viene data la continuità che servirebbe a chi? a Radonich? no, al toro! perché Radonich serve al toro caro cazzo di Yurish di merda di merda no, di merda di gelato caro cazzo di Yurish testa di cazzo probabilmente parlando che tra l'altro io voglio che tu rimanga al toro io vorrei che tu ne mangia io vorrei che tu rimanga al toro perché sinceramente gli altri narratori di cui vengono fatti i nomi sono veramente delle cose che mi fanno ridere paradossalmente io voglio che Yurish rimanga al toro io continuo ad essere uno Yurishin continuo ad essere uno Yurishin allora Gattuso ragazzi Gattuso Gattuso chiaramente caserebbe molto voi tifosi del toro che vi gazate per questi allenatori caldi io ho ragionato su questa cosa nel tempo riflettuto comunque io voglio un allenatore freddo che ragiona per la squadra che se Radonich ti tira una bottiglia addosso tu gli dici vaffanculo parlo con Cairo non viene pagato giochi dall'inizio tiro continuità perché devi andare a fare il bene per noi tifosi dato che il toro non sei tu Yurishin non sei tu Radonich ma per noi tifosi che diciamo siamo la cosa vicina al toro pur non essendola neanche noi quando andiamo però nella fenomenologia ontologica filosofica da regnana del diciamo legato al toro ma non ci addentriamo troppo e quindi lo fai giocare lì dai continuità e invece Gattuso è un allenatore chiaramente piacerebbe molto a voi tifosi del toro perché è un allenatore caldo che ti creerebbe tantissimi meme incazzuso eccetera eccetera però nei fatti Gattuso è un bravo allenatore no non l'ha mai dimostrato tutta questa gente che arriva dall'Italia dal Germano 2006 mi dici Pirlo mi dici Girardino Gattuso cioè sono una generazione che non sa allenare Pippo Inzaghi non sono allenatori sono alla meglio mediocri sono alla meglio mediocri Gattuso mi piace per lui mi piace stare simpatico da certi punti di vista ma è un allenatore caldo ma che non è un bravo dove cazzo volete che ci porti Gattuso ora Juric invece dove ci può portare Juric se raffina quelle due o tre cose che sono talmente banali che fanno incazzare fanno incazzare pure me tanto da di lì che ho testa di cassa praticamente parlando se raffina quelle due o tre cose Juric è un allenatore che è un buon allenatore un allenatore serio un allenatore che dà un gioco funzionale e deve mantenere il 3-4-1-2 il 3-5-2 è proprio un modulo che io non posso neanche sentire poi se riminciano tutto con il 3-5-2 con Ginetti se Ginetti va benissimo ma io il 3-5-2 è una tattica è un modulo che non sopporto cioè proprio se in quei moduli tipo 4-4-2 3-5-2 che non sopporto cioè con questo scollamento tra il centrocampo e l'attacco questa difesa treca mi piace ma con questi 5 centrocampo queste fasce che devono andare avanti no no io amo il 3-4-1-2 ho 3-4-2-1 e anche amo tantissimo mi sono fatto il 3 il no il 4-2-3-1 ecco il 4-2-3-1 Spallettiano Tiago Mottiano quello amo non voglio poi avere 4-3-3 secondo me è difficile il 3-5-2 mi sa sul cazzo poi ripeto vinciamo così va benissimo va benissimo possiamo anche giocare col col 0-0-10 0-0-10 non me ne frega un cazzo col 0-0-10 non me ne frega un cazzo però io credo che ci voglia una continuità a livello anche di di modulo ma non che me lo cambi per non far giocare Radric o comunque per altri motivi secondo me Juric aveva azzeccato cioè bravo nel 3-4-1-2 deve soltanto migliorare in questo caso nella fase di centroattacco perché comunque è bravissimo nella sovrapposizione è bravissimo nel giocatore tipo Riccio che torna indietro a prendere palla dalla difesa Juric sa fare benissimo il ponte nel 3-4-1-2 fra la difesa del centrocampo sovrapposizioni dei braccetti e cose varie ottime avanzamento manca soltanto e non è soltanto tra virgolette la fase prettamente offensiva dove non so perché Juric si perde un micro d'acqua poi manca cioè il fatto che mette i giocatori a cazzo detto questo queste due cose e poi una conferenza stampa in cui tiri più fuori le palle ma non nella gimmick non nella gimmick ma nella realtà quindi nei fatti quindi freddezza e tirata fuori di palle ma in maniera fredda nella comunicazione che non deve stare per forza calda tu puoi fare una comunicazione come cazzo vuoi ma l'importante è che sei freddo nelle scelte Juric nelle scelte non è freddo voglio un allenatore freddo nelle scelte non caldo nelle scelte voglio un allenatore freddo nelle scelte e Juric non lo è detto questo Juric in assolutamente andiamo a Bologna secondo me perdiamo giochiamo a quanto pare 4-5-2 con Bracetto Tameze ottimo buongiorno non so per dire Sindel buongiorno Rodríguez granissimo tra l'altro Sindel sta vincendo il resto d'Italia nelle finali della Davis prima che vinca credo questo punto mi ricerla mi ricerci in porta centrocampo con Bellanova e Lazzaro sono d'accordo poi c'è Vlasic Ilic Gineteis Vlasic Ilic Gineteis quindi ci può stare ok e Zapat si andrà per davanti allora Flavio e Forteria esulterai finalmente per il gol di Zapat finalmente Zapat farà il suo secondo gol dopo 11 partite speriamo ragazzi ci vediamo domani sera per il Torucast in diretta con ospite sorprese mi raccomando sezione live ciao a tutti ragazzi